Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. vai 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 Vieni, 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 vieni Vieni, vieni, vieni Vieni, 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 vieni Vieni, 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 vieni Vieni, 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 vieni Vieni, 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 vieni Guarda quello che cazzo di... Eh! C'era, c'era, c'era palla! Bravo, c'era! Guarda dove sono! Sono un po' più alto! Ciocano anche al reddito, sembrano per la reddita. Le misure qua, queste qua. Ma le misure sono uguali? No, per il reddito e il calcio. Di là? Di là? Ah, ok, ok. Ma le misure è più uguali. Eh! Buongiorissimo! Hai giocato? E la tazza ce l'avevi? Sì, sì. Ti ammazzavi, ti ammazzavi, ti ammazzavi, ti ammazzavi. Sì, e che non arrivi in certe categorie. Sì, e che non prende l'unità. 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 Però oggi volevo che venivano le leado. Io speravo che... Ho detto, magari li chiami e mi dici... Ma non c'è, no, perché tanto perché... Dicendo che siete a metà. Va bene, siete a metà. E mezz'ora che sei qua. E' giocato! 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 che vuoi dire, mo? Si. Giocato! Vicenta! Cor famoso! Cor communicate le ho passate, va! Fuori! Fuori! Fuori va! Bello! Bravo! Attenzione bene. Ettenzione ai difesa lì! Quello! De Lu Hurry! Quello! La porta è anche bella, ma è bella. Oh, quelle robe lì, Dio! Oh, bravo, portiere, bravo! Eh, guarda il portiere qua. Eh, un portiere buono. Ma sì. Eh, lo so, era più da fare un po' nonnetto. Sì, però vabbè. Forse avevo fatto il secondo tempo il portiere. No, perché non so. No, sapevo che comunque noi avevamo tre portiere, uno... Dicono gli uomini, dovete ascoltare. Vabbè! Come si accoglie? Vabbè! 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 Troppo il passaggio è dietro. Troppo il passaggio è dietro. Eccola là con l'altra, vedi? Vabbè la misera! Sì! Vabbè il contrasto. Dai ragazzi, che stiamo andando bene, eh! Sì! Ciao! 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 Via Muso! Ci metto, ci metto anche là! Vi cazziamo, ci metto! Vai, vai, vai! Ci metto, ci metto! Dai, dai! E provaci! bene Come fai di che mi lo mette? Al bricchio? Al bricchio. Dovrebbe fare una frase. Allora, a me deve fare una frase. Ci chiamo anche biondi che non è male, ma è buona. Io farei bene. Ma credo che non fosse biondi, comunque è facile. Perché sono veloci, ma anche biondi è veloce. Allora, ragazzi. Però potremmo portare solo. Eh, ma è per il lavoro. E lì, comunque anche tu io a testo. Oh, buono. Sì, io ho visto che c'era anche giustato. Sì. Ma seconda. In paderno. In paderno. In paderno non ho mai giustato perché non aveva tempo. Che cazzo mi ha giustato qua? Wow, ma credo che stai giustato. Ah, ma cazzo, ma che stoppio. Mamma mia. Arriva. Vamo, uomo, uomo. Cando, dai, cando, dai, cando. Attenzione. Via. Va bene. Va bene. Vale, non puoi perdere la mia. Va bene, dai. Oh, è una buona. Oh, è una buona. Vieni qua. Ma io ho bisogno delle due. E' una buona, è una buona. Cerco di fare due. Bene, bene, bene. Vieni qua. 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 Salta, salta, salta. Vieni qua. Sì, sei dove. Sei dovuto. che ducco? bravo ma buono mamma mia guarda più forte bene tranquillo Muso, bravo guarda l'aria dirigiosa arriva, prenda i gestici le ginestesi tra l'elio duciamola buona tassa non vuole scegliare il pallone non vuole andare avanti bene, sull'epoca sull'epoca vieni a fare la prima io la mano guarda più vai le spalle, Mari vai com'è bravo solo solo ancora, ancora, non devi fermare, diamo ora, ora, ora giro, giro la palla, giro bello, bello bravo corti bravo fermo, la vila c'è stato quell'altro oh ma non c'era buona Noi ragazzi, coraggio! Se la prendeva e la prendeva tutt'uno, è un piaudio di avanti a questo punto. Sì, è vero. Mia tua, mia tua. Fuori. Questa è una macchina, guarda in Firenze. Questa è una macchina, guarda in Firenze, guarda in Firenze. Guarda, guarda in Firenze. Guarda, guarda in Firenze. Guarda, guarda in Firenze. Guarda in Firenze. Guarda. Siccio, Siccio due. Bravo, Guardi, solo! Guardi! 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 Guardi, guardi! Guardi, guardi! Guardi, guardi! 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 Guardi, guardi! Guardi, guardi. No, c'è anche il coniglio eh! Guardi, l'ho fatto, per stare in... in armonia, dai!! Vai, 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 stacca! Tranquillo, brutto! Ho provato un paio di volte, uno è morto che... a sette libri che c***o la visita, tutto a posto, molti pancia, molti pancia, molti pancia, ho dato il bagno, ho fatto in bagno. E poi secondo, amavo il male, ho fatto un ex luterino, e poi vieni, 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 ho largo, ho largo a prenderla! Vieni le piedi! Scolo, scolo! 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 anzi! Scolo! Scolo! Allora ci sono conosciuti per fotografia, e dice, va bene, va bene, dai ci hanno sposato, tien invente su, e lui l'ha sposato subito. hai chissimi importanti? Il 17 ha malattice. a 18 aveva la prima femmina, a 19 la seconda femmina, a 20 la quarta femmina, a 21 la quarta femmina e ne ha fatto 5, va bene? Questa è una squadra, ma che l'onerete, c'è meglio di fare! Il è sociale non si viste, c'è un grande, mi è un grande. Voleva giocare! Bravo! Eh quanto riguarda le ballone? Voleva giocare? Bravo! Bravo! Non ce l'ha faille? Non ce l'ha faille, non ce l'ha faille! Va bene, bravo Andrea, bella uscita! Bravi, bravi ragazzo, così, perfetto! Va bene ragazzi, concentrati, siamo solo al primo tempo! Plutus, se va avanti così, mandiamo dentro te. Plutus, se entra Plutus qua son cable. Salve, 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 salve! Salve, 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 salve! Salve, salve, salve! Salve, 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 salve! Salve, 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 salve! Salve, 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 salve! Trifo, salve, salve, salve! No, ma non si gioca così, non si ragiona così, e questo qua, secondo tempo, preso un calcetto, è andato fuori, è andato fuori, basta, è giocato uno in meno. Non è mai che ne ho vinto, guarda. Ora ne rottidiamo un altro, per questo tempo. Sono un po' scarso in testa. Sotto, su, ragazzi, su, ragazzi, su, su, veloci, bravo. Buona moto, buona moto, buona, 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 buona. Atacca. Atacca. Ok, giù, ancora, giù, si gira. Atacca. Atacca. Senti, 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 senti. Bravo, Giorgio. Stira. Anche l'arco, anche l'arco. Non stiamo parlando. Raga, raga. Sì, allele! Bravo, bravo, vale! non è giusto? di qua come c'è? non lo so no, non c'è che obiettivo è giusto? 25-400 25-400 faccio tutto ti metto il massimo o sì? ti metto il massimo o sì? l'ho messo in là, ho spostato in là è una cosa troppo avanti, bravo controllo vabbè vabbè meglio così attenzione però ma sì 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 la voce guarda su alza ripetendo il burco alza prima di libero non c'è il barco tri sali sali Ci sono ancora 10 minuti abbondati. Si, circa 10. E' buona. E' buona, ancora, ancora. Il Feridira è bravo. Si, circa 10 minuti abbondati. E' buona, ancora. 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 E' buona. E' buona. E' buona, ancora. E' buona, ancora. E' buona. E' buona. E' buona. E' buona, stai facendo scazzare. E' buona. Sì, sì, sì! Calma ragazzi, calma. Ma se io li vedo in giro mi pare riconosso. Quanto è vederli sotto la luce così? Grazie! Bravo! 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 Ok. Vai vai vai. Vai! Bravo! Bene. Angoliyoruz di più, proviamoci. Sono quattro. Come prima, bisogna angolarla di più, bisogna angolarla di più e via. È tutto perfetto, basta angolarla un po' e via. Qua dopo è probabile, però è anche facile, bisogna fare. Puoi fare delle cose impossibili? Cioè, bravissimo Luca. Vabbè, la prima partita, però non è male. Meglio è, secondo me, abbiamo fatto un amichevole. Prima amichevole ficciaggio. E' la distanza. 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 Tenne andato. Logong, avanti, avanti Torba. Epice пох残iamo. Lasc suspicious anche in questo posto. V baptized in robusto signorale marc distintos tre mesi. ci devono avere il frigo ecco bravo, bravo bravo Ander vai girare dai, dai, dai ma è passato basta 2 Word 5 5 6 6 7 Diesò deve stare chiaro ragazzi concentrati come prima anzi sempre meglio come arriva ancora dietro taglio ancora dietro dai sostegno ci sei ci sei Vieni, vieni, portala! Vieni, vieni, portala! Vieni, guardala! Vieni, guardala! Perfetto, perché l'attacco non lo svingola, non lo fa giocare, e allora lui cosa fa? Il ciclese non lo può fare! Ma poi fagli fare tutto quel campo lì! Inizio... è bene è bene, dai Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Aspetta! Ancora! Ancora! Otti dietro! Eh! In mezzo, in mezzo, bravo! Dai 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 dai! Zero! Ema! 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 Arriva! Lungo, lungo, lungo! Bravo! Vale! Due volte già posso fare. Non si vede, Mario. Quei due le c'è impiegato. Ma doveva sulci, no? Solo, solo, se vuoi! Solo, solo! Bravo! Bravo! Ema! 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 Attenzione! Attenzione! Difesa! Ema! 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 Aspetta che va all'esterno! Ema! 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 Buongiorno Buongiorno Oh Pippo E' buona Buongiorno Pippo Il campionato Te l'hanno ancora dato No! E' buona Grazie. 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 Bravi. Bravi. Bella idea. Grazie. No. No, io... Vieni, vieni dieci, è ovvio! Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Forza, forza, forza! Bravo, bravo, bello, bravo! Vi can 주, vediamo! Vado! Vedi? Questo qui演�ai, sei che la perde. Verso sensazione Bravo, bravo! Chi c'è? Grande Bini, è già sbagliato. Parca boia. Tagliela, tagliela. Eccolo lì. No, peccato. Questo è proprio, ragazzi. Niente, non riesce oggi. Eh, non riesce oggi, potecchino. Vabbè, fallo in Campionato. Niente, non riesce, non riesce. Sicuramente il campionato di tutte queste chance qui nella squadra. No, ma certi, ma certi, è tutta massa. Certi, tutto l'aria italiana, tutto il campionato. Nel stile a dieci. Anche se non è... Sì, sì. In queste cose mi fa fare per me così. No, 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 no. No, ragazzi, ce l'ha sboda di sfuggire. Peccato. Non lo ha preso. Non lo ha preso, è visto. Lo tolgo, 2-1. Va bene, Filo, non hai colpa qua. È sfuggito lì, in fase difensiva, nessuna colpa. Succede, no? Sì. Eh, sai che hai detto bene, molto bene. No, dai, hai preso la palla però, dai. Quando hai preso la palla, se no scusi se... Ho dato questa cosa va dando l'olenta. Scusami. Anche se mi sono arrabbiato per il gol, perché non è da prendere. Eh, però vabbè, però... Eh, quello è il problema, esatto. Ho sbagliato 7-8 gol, e non so, alla fine. Non so, guardate come è andato. Scusami. 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 Se lo tantavol Swan. Amplacico. Ma lei parlo. So, ragazzi, è era l'affare. Scusami. Si, quelle da fare. Vabbè, vabbè. Dai, un pelo più corto c'era. Quello lì, quello lì però fa per due. Vabbè, ragazzi, però giochiamoli addosso. Su, su, coraggio. Non ci dobbiamo demoralizzare. Vabbè. Il Campionazzi deve andare a guardare il teatro. Bravo, bravo. Bello! Vabbè, lì abbiamo messo in crisi. È vero o no? Come? Vi abbiamo messo un po' in crisi. Eh sì, sì, assolutamente. È tutto il video della partita? Sì, sì. Ma non si potrebbe ritagliarti il secondo gol della squadra verde? Sì, se mi dai poi il link ti mando il link della partita. Su Facebook? Sì, sì, va bene. Andiamo in Facebook. Ti mando poi il link di copra. Se do il mio profilo di Facebook, me lo mandi? Sì. È un messaggio? È un messaggio privato, va bene. Mi chiamo Omar Ciuglia. Ok, adesso poi mi lo segno. Aspetta. Se lo segni mi invisto, quindi... Ok. Mi interessava il secondo gol di mio cugino. Certo. Quando carico la partita ti invio il link. Sì, sì, va bene. Mia moglie è un'altra parte. Mi chiede? Mi chiede? Mi chiede un fratello di Bichele. Lavoravo, ha lavorato con noi. Sicuramente hanno fatto un tempo con noi. Ma io levo il nostro pazzo. La nostra è? La nostra è? La nostra è? Diamo! Dott'occhi sei pericoloso. Dott'occhi sei più pericoloso. Dai, dai, dai. E anche i giusti che stanno alla cittura, la cittura, la cittura reale, sono le 25. Però, vabbè, non vuol dire che è peccato. Ma... Sì, 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 sì. Molto bene, mi ha fatto anche due per un altro però non sento il suo pensiero. Non so. Ma c'è un suo pensiero. Fuori, fuori, fuori. E mi ha lavorato, Vanilla mi fa curare. Gioca troppo, troppo, Vidi. Non sono finiti insieme, avevo fatto attività e non ho fatto una attività e non ho fatto un altro che qui insieme. Eh, adesso ci manca. Non si è scurato, non si è scurato. Questo qua... Che bello! Non si è scurato per te. Non si scioglie già. Vai, vai, vai! Bello lì! Vaglia! 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 Troppo tardi. Troppo tardi! Vaglia! Vaglia! Prima! Prima! Dai ragazzi Raga, mi spegni, oh! Allora, vabbè, vabbè. Oh, non ce l'ha, eh! Vai in mezzo, ragazzi! Oh, mi spegni, c'è l'ultimo! Stesso l'ultimo, stesso l'ultimo! Stesso l'ultimo! Va via, va via! Vabbè, vabbè, ragazzi! Aspetta! Girà, non puoi da nessuna parte, per favoreggia, aspetta! Vai, dai, dai! Vai! Il tuo è lì, gli altri può saltare! Sopra! Muoviti, giù, muoviti! Sopra, si, muoviti, giù! Sopra! Sopra, si, muoviti! Solo, solo! E poi, suami! Alza, alza, alza come è! Sopra! E, 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 lì, e, lì, e, lì! Eccolo qua! Che, sì, sono scelte! Vabbè! Vabbè! 5, 10 e 1, bravo! Stocco, vai di là! Vai di là! Mario. 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 Della, della, della. Di là. Di sostenere. Di sostenere. Di sostenere. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Vieni qua. Vieni qua. Arriva. Buono. Ok. Ci viene. Scopalo. Si, si. Buonetti. Dai che buona. Dai che buona. Donald. Il pizzo che è una cassa. No. E non la vai per. Dai dai. Segui. Segui. Eh miseria. Segui. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, ho già sentito questo film horror, ma che film ti riferisci di Sottimose Giro? Sì, c'è l'ha il vantaggio, l'ha chiamato e gliel'ha dato. Eccolo qui, stai zitto e basta. Ma contro i direttori. Sì, c'è l'ha, c'è l'ha, c'è l'ha, c'è l'ha. Palla dietro, palla dietro. Oh, oh, oh. Oh, oh, a me. Uomo arriva. Bravo, bravo. E là, uomo, porta dopo. Luigi difendi la palla. Tu portiere, c'è portiere. Buongiorno, son detti. Pippo, Pippo, Pippo. Capina. E là, uomo. Sì, sì. Solo, Mario, si sto. Solo, solo, solo. guarda 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 penso guarda guarda vuoi giù dai 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 c'è una cosa che vuole fare, arcaboglia chiudilo 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 va bene, va bene tia va bene sarà dentro un'ora meglio 15 anni avrei fatto a giocare quello luigi rientra luigi rientra rita però occhi è bello si passa, si passa bene è troppo facile bravo tira un po' la rete che viene giù fagli la scaletta fagli la scaletta arriva, arriva si, va bene vieni, vieni questo vuoi le squadre vieni, pescavi, scalaci la gamba solo, solo solo, solo, solo non ti preoccupare il set non era tu vai chiamalo è girato bravo bravo se sei sicuro di fare l'anticipo lo fai resto bravo è girato è girato è girato è girato è girato è girato non ci preoccupare qui sono vieni 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 dai subito perso l'attimo perso l'attimo fuggente bello calcio d'angolo calcio d'angolo bel filo calcio d'angolo scambi dietro tempo bravo mamma mia grazie a te feroce 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 guarda scasso ma senza fare votare vai scherzo si frusta si ferma ra Vieni, 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 ho capito, però se ce l'ha passato lui. Buono. Ok. Sì, ragazzi. Alziamo tutti, alziamo, alziamo, caldetto. Vieni, 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 vieni. Ci spazio, ci spazio, ci spazio, ci spazio. Uno, uno, uno. Tu è tuo quella lì. Ballaccio. E, oi, arbitro. Se vogliamo darglielo vince, no? Vieni, vieni, vieni. Baraccio. Del te. Buon SS. Alza la futza palla. Guarda lì, l' Including. Sì, sì, sono qua, sono qua, sono qua. A me, dai, dai. Bravo, vai, vai, vai. Vai, bravo. Bravo Luigi. Sì. E lì se lo seguiva qualcuno. Ottimo, bravo. Perché ci devono credere. Perché qui si corre solo se vedi l'idea hai la palla in mano, hai la possibilità di toccarla. Eh. La palla non la torti più che può rubare. Dai ragazzi, spingiamo e dobbiamo fare il gol. Palla, palla, palla. Eh, appunto, quello che è un cattissimo. Non c'è bene, vai. E' un po' che si deve, e si deve, e si deve, e si deve. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è. E' un po' che si deve. Eh, che si deve. Bravo, bravo. Bravo Gigi. Lei, porca puttanca. Buona, buona, buona. Buona, buona, buona. Scaliamo le azioni, dai. Scaliamo le azioni. Bello tutti due. Bravo Gigi. Bravo Gigi. Tu pensi che quell'anno, se non ricordo che non c'erano il mio caso, non c'erano un figlio, siamo arrivati ultimi e ha vinto il capo l'anno niente. Mi devo farti capire, siamo arrivati ultimi e ha vinto il capo l'anno niente. Siamo fatti l'anno niente. Sono fatti l'anno niente. Non si deve fare l'anno niente. In tanti gli altri scapparembro, però non si è. In tante scapparembro. L'anno scorso comunque scappa. L'anno scorso mi sembra che... L'anno scorso, l'anno scorso, l'anno scorso non è neanche rosso. Bravo! L'anno scorso, l'anno scorso, l'anno scorso, l'anno scorso. Bravo! Adesso mi piace di più di questo secondo tempo. È più attivo, più presente. se vuole giocare. Da pistola. Vai, dai, cambia, cambia! Vai, dai, vai, 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 vai! Bravo! Bene, vai, vai ragazzi, vai! Dai, sotto testa lì! Dai, dai, va bene! Sbaglio, sì! Bene, però! Non è che bisogna crederci sempre, perché l'errore vi è portato di mano, eh ragazzi. C'è nessuno incollibile. Guarda qui! Guarda qui! Guarda qui! Guarda qui! Oh! Guarda qui! Guarda qui! Guarda in senso, tempo lo piano! Questa balda! Guarda qui! Guarda qui! Guarda qui all'... Vieni! Guarda qui! A largo, a largo. Ehi, falla andare di qua, bravo, falla andare! Chiudilo, chiudilo! Se vuoi vedere, ci faccio il venti. Se non è nessuna cosa non è godi può dire? Ti faccio vedere se... ed è successo. E' giocata, guarda, guarda... guarda, guarda, guarda! E' giocata giocata! 1-4-10-10-10-10-10-10-10-10 Grazie a tutti.